Massimo Baronciani è il relatore dell'orazione organizzata da Fratelli d'Italia, dal coordinamento di Pesaro, in memoria di Norma Cossetto, la martire delle foibe Giuliano Dalmate nel 1943. Norma Cossetto è stata una giovane italiana, morta a soli 23 anni, che si caratterizzava per essere una splendida figura di italiana, trasparente, di giovanile entusiasmo, desiderosa di assorbire la cultura della sua italianità. È una ragazza anche protesa alla generosità e pertanto ricordarla significa ricordare anche un'identità storica e culturale ben precisa. Una giovane esule istriana di 23 anni che è riscritta all'università, stava preparando la tesi ed è stato oggetto di brutali violenze solo per il fatto di essere donna e solo per il fatto di essere italiana. Quindi per noi è importantissimo ricordare la figura di questa donna perché rappresenta anche il coraggio di tante donne che ogni giorno lottano per le proprie scelte. Fratelli d'Italia si sta battendo anche a livello cittadino per l'intitolazione di una via o di una piazza per i martiri istriano Giuliani. Assolutamente, per noi è una battaglia molto importante perché in qualche modo anch'io mi sento Norma Cossetto. Quindi l'intitolazione di una via, di una strada o di un luogo pubblico a Norma è molto importante. È stata presentata in comune una mozione a questo scopo, purtroppo è stata rigettata con delle motivazioni che noi non condividiamo e quindi abbiamo deciso di fare una raccolta firme, abbiamo raccolto più di 200 firme, quindi anche i cittadini pesaresi ci tengono che un luogo pubblico sia intitolato a questa triste pagina della nostra storia. Quindi continueremo la nostra battaglia in questa maniera. Grazie.